Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Uno dei figli di Rudy Zerbi è stato concepito da una famosa attrice italiana nonché nipote di Gianni Morandi Ecco chi è appunto sempre molto impegnato a livello televisivo, Rudy ha avuto anche una vita privata piuttosto movimentata Mentre la storia del suo padre biologico, vale a dire Davide Mengacci, è ormai nota a tutti, alcuni retroscena della sua sfera personale sfuggono probabilmente a qualcuno Il noto critico musicale è padre di ben quattro figli, venuti al mondo attraverso tre relazioni con altrettante donne diverse Tommaso e Luca, ovvero i più grandi, sono nati grazie al rapporto con la sua prima moglie Simona In seguito invece, Zerbi ha avuto altri due eredi, i cui nomi corrispondono a quelli di Edoardo e di Leo Mentre quest'ultimo è arrivato alla luce per merito dell'unione tra Rudy e Maria Soledad Temporino, dalla quale si è separato nel 2021, Edoardo è il figlio di una nota attrice nostrana Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta.Rudi Zerbi, ecco chi è la madre di Edoardo In questo periodo, così come avvenuto anche negli anni passati, Rudy è impegnatissimo nel suo ruolo di insegnante di canto nella scuola di amici di Maria De Filippi Al momento infatti, manca circa un mese all'elezione del nuovo vincitore di questa ventunesima edizione del Talent Show Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda sabato scorso, ad abbandonare le riprese del format targato Mediaset è stata proprio una ballerina della squadra di Zerbi e della Celentano Caro la Puddu infatti, ha dato l'addio alla scuola di amici nonostante le siano state riconosciute delle elevate capacità tecniche ed interpretative Anche se molto concentrato sul lavoro, il critico musicale ama passare il suo tempo libero in compagnia dei figli e delle persone a lui care Edoardo, suo terzo figlio al quale è estremamente legato, ha visto la luce grazie all'amore che c'è stato tra suo padre Rudy e Carlotta Niti, famosa attrice bolognese che, tra le altre cose, è la nipote di Gianni Morandi Sua madre Nadia infatti, è proprio la sorella del celeberrimo cantante nostrano che quest'anno è arrivato sul podio al Festival di Sanremo con il brano intitolato Apri tutte le porte Nel 1997 Carlotta ha messo al mondo la sua primogenita Alice, mentre Edoardo è nato soltanto nel 2009 Al giorno d'oggi quindi è un ragazzo di circa 13 anni che può contare sull'affetto di entrambi i genitori, nonostante questi ultimi siano ormai separati da diverso tempo Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao